Buongiorno, sono dottoressa Maya Albertova de Mireva, sono dottoressa in fisioterapia, lavoro presso H-Clinic, mi occupo del reparto che riguarda la fisioterapia. Le tre terapie che proponiamo qui sono tutti i tipi di elettroterapia, partendo dalla Ionoforesi, TENS, le correnti, diodinamiche, l'elettrostimolazione. Abbiamo anche la magnetoterapia, ultrasuonoterapia, laser ad alta potenza, onde d'urto. In un vicino futuro ci occupiamo anche di idrochinesi riguardando pazienti operati oppure con dolori cronici sulla colonna vertebrale. Ci occupiamo anche di rieducazione postorale, di ginnastica correttiva, che include tutte le deviazioni della colonna vertebrale. La tecnica del laser di altissima potenza è una terapia a parte antinfiammatoria, antidolorifica, penetra a livello cellulare, stimolando il metabolismo cellulare, partecipa nella riparazione delle cellule e stimola la rigenerazione dei tessuti molli.